Quest'anno il porto sta reggendo bene anche all'onda turta del maggiore afflusso turistico che sta arrivando. Viene da sé però notare che l'affluenza del veicolo di portistico quest'anno è leggermente in calo. Diverso è invece l'arrivo delle presenze che sembrerebbe dare dei segnali più incoraggianti rispetto allo scorso anno. Comunque Casamiccio, l'area portuale, mi riferisco a questo, anche quella veicolare intorno ad esso, sembra reggere bene. Siamo un'ora di punto, il traffico è abbastanza scorrevole nonostante non vi è la presenza di vigili urbani, ma in qualche modo la segnaletica nel tempo ha dato dei risultati, quindi va da sé a riconoscere un merito a chi poi ha determinato questo tipo di situazione. Però io voglio dire una cosa, lo dico a tutti gli amministratori che oggi governano un po' tutta l'isola d'Ischia, il settore dei trasporti marittimi deve essere considerato in modo diverso da come lo stiamo considerando ora, deve essere un po' considerato come il settore della moda, cioè nel momento in cui noi mangiamo il panettone dobbiamo ragionare per quanto abbiamo il bichini addosso o il costume da bagno, quindi certe programmazioni si fanno in stagioni diverse in modo tale da poter essere più preparati. Quindi se qualche amministrazione legittimamente ha da dire certe cose per il settore della navigazione, queste istanze vanno fatte in un periodo in cui è anche poi possibile da parte delle compagnie di navigazione adeguarsi a quello che è il piano orario regionale e mi riferisco con dati più certi che se qualcuno volesse far sì che in un determinato approdo turistico vi siano delle corsie supplementari a quello che è il piano orario vanno fatte dal 1 dicembre al 15 gennaio. Ecco, quelle sono le stagioni in cui va programmato tutto. Se così dovesse essere tutto poi viene da sé, tutto si svolge regolarmente e quindi non ci dobbiamo preoccupare di un'onda d'urta che potrebbe verificarsi e poi non essere preparati a gestire una situazione di questo tipo.